amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video parliamo di un evento davvero straordinario e parliamo di una dedica commovente e strappalagrime fatta da romina romina ricordato un bellissimo ricordo che ovviamente coinvolge anche albano amici youtube prima di iniziare vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 like ne pubblicherò immediatamente un nuovo este video tambiene sta tradussito all'espanolo amici di youtube novembre sarà il mese di albano e romina perché perché romina power sarà ospite più volte a domenica in nei due torneranno in concerto questa è la prima parte della notizia la seconda parte della notizia del giorno riguarda una dedica che romina power ha fatto a ilenia su instagram il social preferito di romina power abbiamo davvero strabuzzato gli occhi guardando questa meravigliosa foto amici youtube da 1 a 10 quanto vi emoziona questa foto questa foto contiene una dedica è novembre 1970 giorno 29 ilenia è arrivata è la dedica che romina ha fatto a ilenia il novembre infatti è il mese di ilenia il mese in cui nacque la figlia di albano e romina vado a tradurre questo video anche in spagnolo romina power pubblicò in instagram una foto in memoria di ilenia carrisi grazie a sattotos amici tube vi ricordo ancora una volta che qualora questo video dovesse superare i 700 like ne pubblicherò immediatamente uno nuovo lasciate il vostro commento la vostra opinione è fondamentale seguitemi su instagram marco liguri 7 facebook marco liguri ricordate di iscrivervi al secondo canale marco liguri ciao a tutti